ho perso tutti o la caro che freschezza a già anzi mi tolgo la giacca in Garniano c'era più caldo c'è la transition è la migliore ma non ci si avvicina io non pedalo su una bici muscolare da due mesi però l'ultima che ci hanno dato l'ultima era praticamente smontata fai fatica a salire? o fai uguale alla scotch? guarda qua mi sembra sponsor orbea è apparezzo qualità alla fine lui l'ha ricostruita praticamente metterina questo ha messo il molla, ha messo il manubrio, questo è il monte tesio faccio fatica con le bici elettriche è bella anche l'elettrica della Canon dei Moterra è un po' ghiacciata la fasana anche le radici no ma non scivola niente quanto regge la tenuta su queste robe qua un po' così qui va via il tracciato va a sinistra il matrimonio di Marco com'è? ti discesa? ti diverto? io ho troppo bagnato molla vai corbassa fa il tuo lavoro Stiglio fa il tuo lavoro Stiglio ma non si punta da nessuna parte no ma poi è consigliata quella forcella lì il sentieri qui qua è consigliata una 100 120 al mare soprattutto l'angolo l'angolo è un 70 bello bello direi che è asciutto questo qua è spettacolare direi che per scendere dovresti trovare più beneficio sì sì diciamo che vai via senza paura io con la scotta oggi ve ne faccio capito comunque mi dà un grado e 9 non è calda ecco ah perché non c'è vento questa è già tanta roba eh mi sa che abbiamo preso tutto una tenuta eccezionali oh oh ti ho visto bene Attilio è un po' più calma adesso diventa un po' più umano oh 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 tranquillo dopo c'è il pezzo bello 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 oh 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 Sbagliato! Ho perso tutti, proviamo a fare questo diacca a squala. Grazie! Qui siamo? Qua! C'è il sentiero. Sbagliato! 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 Vediamo la strada di qua a sinistra. Uncchio e salta! Sono dei cartelli di via! Allora, sei te? Eh, vi ho persi! Sì, ma perché noi abbiamo sbagliato e siamo andati giù a sinistra. Sei entrato in un sentiero che ti diceva di acca qualcosa? Di acca a squalo! Va bene, ora lo stiamo tornando adesso! Ecco, fine di acca a squalo. Era corretto! Vediamo! Oh, guarda questo teatro! Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' venuto giù bene? Sì. Ho trovato una volta. Uno dei tre più belli qua intorno. Sì. Bene. Bello aver girato da solo. Vi siete divertiti voi? Vabbè, quindi? Votto da 1 a 10 per ora perché devo ancora... Della bici? Del giro? Bici? Giro 9? Cioè, uguale Vicenza? No, dai, andiamo dei voti a caso. Questo giro è un sette e mezzo. Si va anche perché abbiamo fatto sei ore di giro contro due, figa. Bene, 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 bene.